Avrai questa scopa adatta soprattutto per raccogliere le foglie e il pratico e geniale contenitore che potrai utilizzare per le foglie ma anche per l'erba che ti permetterà di raccogliere il fogliame, trasportarlo con facilità grazie alla leggerezza e alle pratiche maniglie, potrai mettere tutto nell'auto e portare in discarica senza sporcare l'auto stessa.